ORIGIO Ben ritrovati dal TG Veneziano, iniziamo e parliamo con il Mose, parliamo del Mose. La fine dell'opera sembra essere ancora distante, per le aziende infatti un altro stop. Le imprese che stanno procedendo con la sua realizzazione non sarebbero in regola con la legge sulle certificazioni obbligatorie antimafia. Queste certificazioni sarebbero infatti assenti. Per ora quindi inevitabile il fermo dei lavori ed inevitabile anche che la fine prevista nel 2018 possa slittare. Una città, Venezia, che si adegua sempre di più all'esigenza di anziani e di disabili. La Giunta Comunale ha approvato la delibera a quadro che stabilisce altri interventi per eliminare le barriere artichitettoniche. Via Libera alla realizzazione di 5 nuove rampe di accesso, negli uffici di Calo Redan in Calle del Carbon per l'accesso al protocollo e all'anagrafe in Calle dei Ragusei per il superamento degli scalini, sul ponte della Cereria per il superamento del ponte vicino al sottoportico delle vele a Canareggio. Su 15 ponti poi verranno installati anche dei nuovi corrimano. Gli interventi sono tutti finanziati dalla Regione del Veneto. Ed a dolo, probabilmente un eccesso nell'uso della forza da parte dei carabinieri su due uomini di 45 anni, conosciuti in paese come tossicodipendenti, che il 28 giugno nel parco avrebbero importunato un gruppo di minorenni. I carabinieri, alertati dai minori, hanno fermato ed arrestato i due 45 anni, facendo però un uso eccessivo della forza. E qui in studio con noi oggi abbiamo l'Avvocato Eloisa Galuppi, che è il difensore di Volpato Michele e di Donò Martino. Buonasera, Avvocato. Buonasera. Allora, mi conferma quanto è accaduto a dolo e quindi la vicenda? Sì, in realtà il giorno 29 si è svolto il rito direttissimo avanti al Tribunale monocratico di Venezia. Le accuse erano di resistenza all'arresto e lesioni nei confronti degli operanti di PG per entrambi i coimputati. Nel momento in cui è stata data loro la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni, hanno ramostrato al giudicante e a me, anche in quel momento, che ero presente per il rito direttissimo e la convalida dell'arresto, le lesioni che erano impresse sul loro busto. Conseguentemente il Pubblico Ministero ha ritenuto di chiedere una breve sospensione dell'udienza, ha chiamato un altro operante di PG per fare delle foto e ritengo sia stata aperta poi un'indagine separata per un eventuale accesso, eccesso di forza. Eccesso di forza, la parte degli agenti. Sì, erano i carabinieri della tenenza di dolo. Quanti erano questi carabinieri intervenuti? Dunque, al processo per direttissimo io ho visto intervenire tre, il capitano della tenenza e due sottoposti. Gli stessi che poi, siccome la scelta del difensore, in questo caso io, è stata per il rito ordinario, quindi non abbiamo deciso di defaticare l'udienza, ma ci sarà un rinvio della stessa, ci è stato dato un rinvio a metà ottobre. Quindi il giudice cos'è che ha deciso? Il giudice ha convalidato l'arresto e sostanzialmente ce n'erano i termini di legge e quindi tant'è che mi sono rimessa, non ho osservato nulla in punto. Il pubblico ministero non ha richiesto misure di custodia cautelare e conseguentemente anche in questa maniera i due clienti sono potuti tornare alla propria abitazione. Uno dei due poi era in attesa di entrare in comunità perché appunto le vicende di vita pregresse erano quelle che già erano state stigmatizzate nel processo e il tutto è stato rinviato. Parallelamente ritengo che il pubblico ministero abbia inteso aprire un separato fascicolo. Facciamo una previsione per quanto riguarda i reati a carico dei carabinieri, degli agenti? Le ipotesi, lesioni aggravate probabilmente, sì. Per il resto su quello che è stato l'episodio, che sembra essere stato l'episodio a carico dei due imputati loro negano di essere venuti alle mani con i minorenni, uno dei due non era completamente lucido può essere che avesse abusato di sostanze alcoliche in precedenza. Ritengo ci sia stata una discussione tanto con i minori quanto con i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Però ecco, si aprirà un fascicolo separato per quanto riguarda un eccesso di forza da parte dei carabinieri. È tutto sotto indagine. Tutto sotto indagine, d'accordo. Grazie avvocato, noi seguiremo la vicenda e adesso invece passiamo lo stesso sempre alla cronaca, la cronaca veneziana e parliamo di un pestaggio. In un negozio di parrucchiere, di rialto, cinque uomini sono entrati nel salone e hanno picchiato con feroce due dipendenti. Un sesto uomo è rimasto fuori dal salone a fare da palo. L'aggressione è avvenuta martedì pomeriggio, il tutto, mentre all'interno del negozio erano presenti anche delle clienti e altro personale dipendente. Uno degli aggressori è stato bloccato dagli agenti della municipale, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Sul posto a terra rimanevano i due dipendenti, uno dei quali ferito alla testa e trasferito poi in ospedale. Circa un'ora dopo, uno degli aggressori è tornato al salone per recuperare il cellulare perso. Durante l'aggressione, tre dei quattro malviventi si erano invece recati dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dello stesso telefono e qui sono stati trattenuti fino all'arrivo della polizia municipale a cui hanno rivelato il nome del sesto complice. I sei sono stati quindi tutti identificati, si tratta di cittadini albanesi e denunciati per lesioni volontarie ancora al vaglio le ragioni dell'aggressione. E invece una serata da dimenticare per un trentenne di origini serbe residente a Mira che martedì notte aveva cercato la compagna di una lucciola in via Fratelli Bandiera Marghera. L'uomo in sella al suo motociclo mentre avvicinava una prostituta è stato fermato dagli agenti in borghese. Il controllo ha fatto scattare una denuncia per l'uomo, oltre al sequestro del mezzo perché privo di revisione e di assicurazione una serie di multa il cui totale si aggira intorno ai 3.500 euro. E due brutti episodi con vittime ancora degli anziani. Parliamo di raggiri e ad anno appunto di anziani messi a segno da truffatori che in poco tempo hanno colpito prima a Mestre e poi a Marghera. Ieri in una strada secondaria della Castellana ha suonato la porta di una signora, una donna italiana sui 45 anni, ben vestita e a quanto pare anche distinta, ha spiegato l'anziana signora che in quel momento si trovava sola in casa. La truffatrice si sarebbe fatta consegnare i gioielli e 1000 euro presenti nella cassaforte. Li avrebbe inseriti in una busta e avrebbe spruzzato uno spray, a suo dire un formidabile antifurto. Con uno stratagemma avrebbe poi distolto l'attenzione dalla vittima, dal bottino e si sarebbe quindi data alla fuga. Un secondo episodio si è invece verificato a Marghera, ma in questo caso il raggiro non è andato a buon fine. Questa volta i malintenzionati si sarebbero spacciati per degli addetti dell'Enel. E malgrado non si arrestino i controlli al parco albanese, stazionano ancora gli spacciatori. Ed è preoccupante il dato che lo spaccio avviene anche in zone del parco affollate da famiglie e da bambini. Martedì l'ennesimo episodio e non ci hanno messo molto gli uomini del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Mestre ad identificare i malviventi, due senegalesi di 20 e 24 anni. In loro possesso sono stati trovati circa 25 grammi di ashes e marijuana e 100 euro in banconote di piccolo taglio. I senegalesi sono stati condotti in caserma e arrestati per detenzione di droga ai fini dello spaccio, con l'aggravante di aver commesso il reato in un'area destinata ai più giovani. E all'Antony Palace Hotel di Marcon, ancora cronaca, nella notte tra martedì e mercoledì, un rapinatore con cappuccio e volto coperto da una sciarpa armato di pistola è entrato nella hall dell'albergo. L'uomo, con un accento meridionale alto circa due metri di corporatura robusta, si è fatto consegnare i soldi costuditi nella zona della reception, circa 1000 euro in contanti, ed è poi fuggito. Al vaglio degli investigatori, i filmati delle telecamere dell'hotel, al momento non viene esclusa la presenza di accomplici all'esterno. Ed ora, ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del TG, per il duo comico veneziano Carlo e Giorgio. Ieri sera è stata la sesta ed ultima serata al Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. Tutto esaurito per lo spettacolo, 21 drammi, tutto Carlo e Giorgio dal 1995 al 2016. Un regalo per il pubblico per festeggiare insieme i primi 21 anni di storia professionali del duo. I comici hanno ripercorso il meglio del loro repertorio, dagli esordi fino ad oggi, con gli sketch storici della signora Giancarla e del marito Sergio, Batman e Robin, Tossici, Dennis e Fabietto e tanti altri personaggi. E alla fine un ricordo e un ringraziamento allo scomparso Lino Toffolo, che dicono, ha creduto in noi. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a martedì prossimo e vi auguro un buon fine settimana. Grazie.